Buonasera, avete sentito che ci sono molti fatti italiani di quelli destinati a rinfocolare le polemiche e le tensioni, ma quelle sono tensioni politiche pur su fatti gravi. La vera tensione internazionale che in questo momento porta i rapporti tra Washington e Mosca al minimo storico degli ultimi anni, eppure da un anno e più è in corso una guerra, è l'episodio che è avvenuto a metà del pomeriggio, tre ore fa, circa sopra il Mar Nero, nel cielo, nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero, che come si sa è praticamente in gran parte teatro di guerra, affacciandosi sulle coste dell'Ucraina, ma anche quelle delle zone che sono state conquistate militarmente dalla Russia dopo l'inizio della guerra, e c'è anche la Crimea, ma c'è anche la Georgia, c'è la Turchia. Insomma, uno spazio strategico che da sempre è perlustrato ovviamente dall'aviazione e dagli occhi, dai radar di tutte le potenze interessate. Ebbene, un incidente grave si è verificato e ancora gli sviluppi li stiamo seguendo in questi minuti, ma intanto il servizio. Ciò che si teme dall'inizio della guerra è accaduto oggi sui cieli del Mar Nero. Un drone americano e un jet russo sono i protagonisti di un'operazione che incidentalmente o intenzionalmente è finita male. Il drone, un MQ-9 Reaper dell'aeronautica militare USA, era in missione sul Mar Nero. Come raccontato dal generale James Hecker, a capo delle forze armate americane in Europa e Africa, stava svolgendo un'operazione di routine di intercettazione nello spazio aereo internazionale, quando è comparso un SU-27, aereo da combattimento russo. Secondo la ricostruzione della CNN, basata sul racconto di un funzionario americano, l'aereo stava volando in coppia con un altro jet, quando ha scaricato carburante, si è posizionato davanti al drone e ha compiuto delle manovre. Una di queste avrebbe colpito l'elica di coda del mezzo americano. L'equipaggio che lo telecomandava da terra non ha potuto far altro che farlo precipitare nelle acque del Mar Nero. Il jet russo non si sa se danneggiato o meno, secondo questa ricostruzione sarebbe atterrato poi in una base aerea in Crimea. Un atto pericoloso e poco professionale da parte dei russi è stato il commento del Pentagono, un episodio che potrebbe infiammare la già tesissima situazione tra Russia e Stati Uniti, primi alleati e fornitori di armi dell'Ucraina, tanto che Washington ha convocato l'ambasciatore russo. La risposta di Mosca è stata che il drone americano si stava invece avvicinando alla Russia. Se il messaggio era esercitare deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio internazionale è destinato a fallire. Questo è stato il commento del portavoce di John Kirby, consigliere per la sicurezza nazionale USA. Proprio oggi Putin ha ripetuto che in Ucraina si sta combattendo per la sopravvivenza stessa dello Stato, messo sotto pressione da parte occidentale da quando con l'Unione Sovietica è venuto meno anche l'ordine mondiale, creato dalle potenze che avevano vinto la guerra. Una frase pronunciata in una fabbrica di elicotteri da combattimento in Siberia che non contiene solo la nostalgia della guerra fredda, ma la determinazione a continuare il conflitto, come si sta facendo a Bakhmut. Nella cittadina oggi, dopo mesi di combattimento e migliaia di morti da entrambe le parti, il gruppo Wagner ha potuto esibire la conquista di ciò che resta dell'Azom, un impianto per la lavorazione dei metalli, una bandiera piantata dai Wagner in un luogo che, come l'Azvostal a Mariupol, è ormai totalmente distrutto, ma che a dicembre aveva visto Zielensky arrivare nella città più pericolosa d'Ucraina a salutare e premiare i soldati. Eh sì, ma di Wagner parleremo di nuovo tra pochi secondi, perché come si sa è proprio di ieri sera la denuncia da parte del governo italiano attraverso il ministro della difesa Crosetto di un'ingerenza di quella stessa brigata che è infiltrata in molti paesi del sud del Mediterraneo nel flusso ingente di queste settimane di incontrollabili scafi con a bordo migranti. Insomma, è come se, è stata l'accusa di Crosetto, fosse intenzionalmente stato e di molto intensificato il traffico verso l'Italia e il sud dell'Europa per mettere in difficoltà appunto l'Unione Europea. Si sa che ha risposto ieri molto sprezzantemente lo stesso Prigojin che abbiamo visto nelle immagini, ma prima di riparlare di questo, perché prende posizione nell'Unione Europea, vi devo dar conto dell'ultimissima presa di posizione della Russia dopo che l'ambasciatore di Mosca è stato convocato dal Dipartimento di Stato americano per spiegazioni sull'incidente nei cieli sopra il Mar Nero. Secondo il Ministero della Difesa russo non sono state usate armi nel confronto tra i jet di Mosca e il drone americano e non c'è stato nessun contatto diretto. In realtà il drone sarebbe caduto, secondo la ricostruzione russa, per le sue stesse brusche manovre. L'aereo senza pilota MQ-9, così si legge nel comunicato della difesa russa, è entrato in volo incontrollato con perdita di quota e si è scontrato contro la superficie dell'acqua. I combattenti russi non hanno usato armi aviotrasportate, non sono entrati in contatto con il veicolo aereo senza equipaggio e sono tornati sani e salvi alla base. Queste le parole di Mosca, c'è da prevedere che ci saranno ulteriori sviluppi e l'esibizione verosimilmente anche di prove dei tracciati radar. Dicono i russi che il drone americano si stava avvicinando allo spazio aereo russo. Vedremo anche questo.